Buonasera, ben trovati. Allora, ve lo dicevo poco fa, la decisione di deliberare lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale per i prossimi sei mesi ha un significato molto chiaro per il governo, perché permette delle decisioni rapide, senza i passaggi soliti per quel che riguarda i decreti o qualsiasi provvedimento deciso dall'esecutivo e anche lo stanziamento di fondi straordinari. Pensate che negli ultimi dieci anni, dal 2013 ad oggi, lo stato di emergenza è stato dichiarato oltre 125 volte, quasi sempre però per motivi legati all'ambiente, catastrofi naturali e quindi si imponeva la necessità di risolvere subito una situazione che era imprevista. In questo caso il governo ha deciso, proprio nel pomeriggio di oggi e durante il Consiglio dei Ministri, di deliberare invece lo stato di emergenza per la questione dei migranti. Una misura straordinaria che secondo il governo Meloni permetterà procedure rapide e risposte più efficaci. È la motivazione che arriva da Palazzo Chigi per spiegare la dichiarazione dello stato di emergenza sulle migrazioni su tutto il territorio nazionale. Il Consiglio dei Ministri l'ha approvata nella seduta di questo pomeriggio, durerà sei mesi, coinvolgerà anche la protezione civile e la croce rossa italiana. Il coordinamento delle attività sarà affidato con ogni probabilità al Viminale, ma la proposta è del Ministro della Protezione Civile e delle Politiche del Mare, nell'Omusumeci, ed è stata motivata dall'eccezionale incremento degli sbarchi di migranti nelle ultime settimane. Dall'inizio dell'anno le persone approdate in Italia sono oltre 30.000. Gli interventi per far fronte all'emergenza avranno un primo finanziamento di 5 milioni di euro, prelevati dal Fondo per le Emergenze Nazionali. Nelle intenzioni del governo serviranno in gran parte per offrire ai migranti soluzioni di accoglienza in tempi brevi, ma con standard adeguati. Si potranno anche aumentare le strutture destinate al rimpatrio dei cosiddetti migranti economici, i centri per il rimpatrio e potenziare le attività di identificazione ed espulsione. Una soluzione presa, sottolineano ancora fonti del governo, in attesa di arrivare alla definizione di una strategia europea comune. Negli ultimi giorni in mare la situazione si è fatta sempre più impegnativa per i mezzi di soccorso. In questo momento la nave della Guardia Costiera Peluso sta trainando un'imbarcazione partita dalle coste libiche con oltre 700 persone a bordo verso il porto di Catania. Il motore del peschereccio è in avaria. L'arrivo è previsto per le prime ore di domattina. La protezione civile locale ha già approntato due grandi tensostrutture per l'accoglienza. Contemporaneamente la nave 18, sempre della Guardia Costiera, sta scortando verso il porto calabrese di Vivo Valencia un'altra imbarcazione con 430 migranti a bordo. Poco fa infine l'aereo di ricognizione Ciber 2 dell'organizzazione non governativa Sea-Watch ha segnalato la presenza in acqua e SAR maltesi di un altro peschereccio con circa 400 persone a bordo e ha lanciato un allarme chiedendo l'intervento dei mezzi di soccorso.